Si apre ufficialmente la sessione di bilancio a Palazzo Campanella. Per questo pomeriggio è convocata la riunione della Commissione, presieduta da Giuseppe Aieta, che esaminerà il documento di programmazione economica per il triennio 2017-2019. Per la giornata di domani, invece, sul tavolo dei commissari finirà il bilancio di previsione per il 2017 con il collegato, oltre alla legge di stabilità. Un vero e proprio tour de force, già preannunciato dal vicepresidente della Giunta, Viscomi, che dovrebbe far arrivare in Consiglio il bilancio prima delle festività natalizie, probabilmente mercoledì 21. I numeri che emergono dal corposo dossier già depositato dalla Giunta sono ancora piuttosto preoccupanti. Se da un lato il documento di programmazione triennale lascia spazio alle speranze e descrive una Calabria in crescita, seppur lieve, il bilancio annuale è ancora da lacrime e sangue. Secondo il documento di programmazione, la Calabria riparte. Nel 2015 il pille del mezzogiorno è cresciuto di un punto e quello della Calabria di un punto virgola uno, con un'importante inversione di tendenza nell'agricoltura, nel turismo e in minor misura nelle costruzioni. Al momento però il piatto continua a piangere. I numeri del bilancio di previsione, quelli più attualmente concreti, sono i soliti. Non ci sono i soldi per nulla o quasi. Il bilancio sarà impegnato per il 70% dalle spese per la sanità e per la restante parte per spese vincolate. Le entrate libere ammontano solo al 14%, cioè circa 700 milioni di euro che saranno assorbiti dal pagamento delle spese per il personale e per il funzionamento del Consiglio. Riccardo TRIPEPI per la CNews24.